Sono Vincenzo Chizioniti e sono il presidente dell'associazione culturale Onor Caduti di Camini. Da quando abbiamo fondato questa associazione ormai due anni e mezzo, tre anni fa, grazie anche al contributo fattivo del nostro sindaco Pino Alfarano, in occasione del 4 novembre e del 25 aprile festeggiamo la ricorrenza anche di uno dei nostri caduti in guerra. Abbiamo già fatto delle attività per quanto riguarda questi caduti in guerra e sarebbe nostra intenzione fra l'altro istituire un piccolo museo con alcuni documenti che riguardano questi caduti. Questo 4 novembre ricorderemo il caduto in guerra Vigliarolo Pasquale che ha una storia particolare, d'altra parte anche le storie degli altri caduti e abbiamo riscontrato che avessero delle particolarità. Questo caduto in guerra, questo Vigliarolo Pasquale è caduto in guerra in Macedonia durante la prima guerra mondiale e questo appare strano perché la prima guerra mondiale per l'Italia si svolse più che altro sul Piave, sul Grappa e sul Carso. Ma proprio in quegli anni successe che gli alleati decisero di andare in soccorso della Serbia e quindi distaccarono una divisione che fu portata a Brindisi. A Brindisi fu imbarcata per Salonicco e da Salonicco doveva risalire la penisola balcanica per giungere in soccorso della Serbia. Durante questa risalita di questa divisione che era al comando di un generale francese ci fu una battaglia nei pressi di Bitola in Macedonia al cosiddetto Monte Dente di Velosina. Durante questa battaglia Pasquale Vigliarolo perse la vita in combattimento per una scheggia di granata caduta sulle trincee dove erano schierati. Quello che vogliamo ricordare però non è tanto gli avvenimenti della guerra e questo ci interessa di meno. Noi vogliamo ricordare la sofferenza della guerra e la sofferenza delle famiglie di Camini e di tutte la nazione sia di vincitori che di vinti il dolore di queste famiglie per la perdita di questi loro familiari. Giusto un esempio Pasquale Vigliarolo quando è caduto in guerra aveva 22 anni, giovanissimo. Per la sua famiglia fu un dolore atroce. L'Italia in quegli anni vinse la guerra ma la famiglia di Pasquale Vigliarolo non fu tra i vincitori. Perse quello che era il bene più caro, la vita del figlio e così come tanti familiari delle famiglie di Camini. Scopo dell'associazione culturale Onor Caduti di Camini è quindi ricordare il dolore che le guerre portano nelle famiglie e nelle popolazioni sia da parte dei vincitori sia da parte dei vinti. Nelle guerre non ci sono vincitori ma alla fine siamo tutti vinti.